In questi quattro anni ho imparato che la violenza non è soltanto fisica, ma c'è una violenza economica che molto spesso è data dall'ignoranza. Noi come Ordine abbiamo fatto dell'attività in questo senso e c'erano delle donne che hanno firmato delle fideiussioni senza neanche sapere che cos'erano. Quindi io non ho e non credo di poter lasciare un segno perché siamo persone normali che vivono la vita normale. Quello che però credo... Noi può lasciare un piccolo segno. Però credo che se siamo arrivati a un ruolo abbiamo una responsabilità e la responsabilità è di essere testimonial di un modo di vivere anche la gestione del ruolo a servizio degli altri. Questo credo sia molto femminile. a servizio degli altri in un'attività di rete e che, parliamo di ripartenza, si possono affrontare le difficoltà con un sorriso, con la voglia di superarle, che le difficoltà nella vita ci sono sempre, e questo lo dico perché ci sono le giovani, ci sono sempre nella vita, o sono da un lato o sono dall'altro. è la consapevolezza di avere le risorse per poterle superare, che poi te le fa superare. E quindi non c'è soffitto di cristallo che non può essere rotto. Magari con più fatica, quando abbiamo cominciato noi. Qualche bernoccolo c'è, però dobbiamo essere esempio e essere vicini. Tante volte mi arrivano delle colleghe all'ordine e dicono, ma io i bambini piccoli, ma come faccio? Ma non riesco a gestirmi. Quando sono a casa mi sento in colpa perché non c'è. Quando sono al lavoro mi sento in colpa perché ho i bambini a casa. Perché tutto questo c'è ancora adesso, non è che è cambiato rispetto al passato. E io quello che dico sempre è sì te stessa. Perché se nel momento in cui tu hai dato tutti i tuoi figli, hai dato tutto il suo lavoro, quello che dovevi fare l'hai fatto. E poi, siccome sono cattolica, si è fatta la volontà di Dio. Grazie a tutti.